Amici di Wine Soundtrack, ben trovati. Oggi siamo in compagnia del conte Gerasio Gaetani d'Aragona, oltre a essere personaggio storico nel mondo del vino, produttore e anche opinionista. Da un lato è stato, come dissi anche in una precedente intervista, è stato l'uomo che mi ispirò al mondo del vino intorno alla primavera del 1995 e quando lo conobbi rimasi molto sorpreso, illuminato e anche un po' fulminato. Buongiorno Gerasio. Buongiorno, mi fa piacere rivederti, effettivamente mi ricordo anch'io quel giorno nell'Alto Lazio, nella Valle Tiberina, quando ci siamo visti in una bellissima azienda vinicola. Ora non so se si possono fare i nomi o no, però la giornata me la ricordo bene. Gerasio, dici qualcosa di più su di te e sul mondo del vino? Ma io sono stato, sono stato perché in questo momento non lo sono più, forse lo tornerò a esserlo, un produttore di vino. Lo sono stato a Montalcino con un'azienda storica che apparteneva la mia famiglia, la tenuta di Argiano. Ho cominciato, quando avevo 17 anni, a lavorare, a interessarmi all'agricoltura prima e alla viticoltura dopo, perché in quegli anni nasceva, grazie alla famiglia Biondi Santi, il boom del Brunello di Montalcino. Argiano, lo dico sempre in maniera ironica, noi avevamo un palazzo di famiglia molto importante a Roma, ma purtroppo mio padre, lo perdette come quasi succede, è successo in molte grandi famiglie o famiglie storiche più che grandi e quindi ci trasferimmo. Quindi è nato tutto un po' per il fatto che ho lasciato Roma da Rampollo e mi sono trasferito da ex Rampollo e mi sono trasferito in campagna a Montalcino. Quindi per entrare nel merito, il tuo primo ricordo legato al vino? E beh, mi ricordo i contadini, a quei tempi c'era la famosa mezzadria in Toscana, quindi c'era il padrone in un mondo di questi contadini bellissimi che ricordo uno ad uno erano i mezzadri che dividevano con il proprietario dell'azienda a 50 e 50 i raccolti, quindi grandi quantità, poca qualità. Però ecco, le vendemmie del nostro vino con tutti i contadini che abitavano i casolari di Argiano che oggi invece non solo ad Argiano ma in tutta la Toscana sono diventati le ville di tutte le persone, dei VIP piuttosto che dei professionisti che si sono trasferiti nelle campagne che a quell'epoca invece erano popolate dei famosi contadini. Oggi ce ne sono sempre di meno, sono degli operatori agricoli molto bravi anche. Celasio, sebbene giovanissimo ti sappiamo papà e anche nonno, quindi secondo te, parlando di educazione al consumo, ovviamente moderato di vino, secondo te quando è giusto iniziare un giovane all'assaggio e alla degustazione del vino. Ma io piglio sempre come esempio me stesso, ma non perché il mio sia un buon esempio, ma perché mi ha portato ad arrivare alla mia età, essendo sano, mi considero molto sano in salute, nonostante abbia apprezzi moltissimo il bere vino e non solo vino, mi piace anche un buon cognac piuttosto che un armagnac. Per cui direi che la moderazione è la cosa più importante, ma essendo il vino qualcosa che fa parte della nostra cultura è giusto farne la conoscenza, non necessariamente quando si è molto giovani, ma sicuramente quando si comincia a lavorare diciamo nei 28-30 primi, insomma negli anni quando si hanno i famosi 30 anni, anzi è un amico indispensabile il vino. Ovviamente avrai partecipato a delle vendemmie, ne hai un ricordo di una in particolare? Beh sì, ho il ricordo di una primissima vendemmia dove io e i miei fratelli abbiamo vendemmiato a Dargiano con una paghetta che ci dava il fattore della fattoria che apparteneva a mio padre e quindi poi lavoravamo anche in cantina e dove io mi ubriacai proprio durante la fermentazione del vino perché ero troppo vicino ai tini aperti di legno che c'erano in quei tempi vecchi dove il vino fermentava in maniera tumultuosa, poco controllata come oggi è invece la fermentazione e mi ubriacai e mi ricordo che avevo una governante austriaca che peraltro è seppellita e poi è rimasta in casa, è seppellita non in Austria ma in un piccolo cimitero a Dargiano proprio e lei mi ricordo si prese cura di me, prima mi fu anche insomma punitiva ma poi dopo si prese molta cura di me. Sappiamo che sei stato e che sei selezionatore di vini anche per il jet set mondiale, sia quello italiano e quello statunitense, per te cosa rappresenta il vino? Il vino da italiano e da persona che è vissuta tutta la vita nel vino e attraverso il vino ha imparato tante cose direi che fa parte del nostro DNA ed è un, non potrei neanche dire un alimento, è qualcosa che deve essere considerato un'opera d'arte perché il vino non è altro che è un prodotto che viene dall'uva ma nella realtà è qualcosa che è stato trasformato in questa bevanda così buona, così particolare grazie a un lavoro artistico che è il lavoro che non fa solo il contadino ma lo fa oggi, lo fa l'enologo, l'enotecnico e tant'altro quindi trovo che il vino è cultura e la cultura è conoscenza e attraverso la conoscenza il mondo dovrebbe migliorare, quindi è molto importante. Qual è il termine legato al vino che ti affascina di più? Forse la parola ebrezza che è legata al vino perché lo stato di ebrezza sicuramente permette all'uomo, a noi o a me stesso di tonificarmi per poi dopo stare meglio e affrontare le grandi sfide della vita. Dunque se la tua vita fosse un vino che vino sarebbe? Ma c'è un vino che a me piace tanto e l'ho detto spesso e ne ho anche scritto e parlato è il Pinot Nero e in particolare i Pinot Neri prodotti in Borgogna, oggi mi piacciono anche quelli prodotti in Oregon, uno stato molto lontano d'America e direi che mi piacerebbe essere un vino di Borgogna perché è un vino che sa essere forte, robusto, anche un vino chiamiamolo maschile in certe annate, in certi momenti, però sa anche essere gentile, delicato, brioso in altri momenti, quindi vorrei essere un vino della Borgogna. Aggiungerei elegante che a mio avviso è un termine che ti si addice perfettamente. Parlando di Italia, quindi la nostra nazione, cosa ti piace di più in generale? Considero l'Italia ancora oggi che non è certo nel suo momento migliore se ci riferiamo a come è gestita senza entrare in giudizi politici eccetera, però rimane uno dei più bei paesi del mondo, vedo tante persone, soprattutto del mio fra virgolette ambiente, persone che insomma che non sono proprio i dimenticati del mondo, che però cercano di andarsene dall'Italia, di investire fuori dall'Italia e invece credo che mai come ora l'Italia potrebbe essere un paese di grandi opportunità perché rimane il paese più bello del mondo. Ci sono ancora questo patrimonio artistico meraviglioso che potrebbe essere meglio conosciuto, oltre che meglio gestito e quindi l'Italia, io trovo che è il paese veramente più bello del mondo, abbiamo la fortuna anche che noi italiani stiamo cominciando a essere soprattutto fuori dall'Italia, te stesso che viaggi molto te ne sarai reso pronto, cominciamo a essere un esempio, persone, uomini, donne da imitare, purtroppo noi che viviamo in Italia vediamo tutta quella parte meno bella che è quella di cui non vorrei entrare ora in discussione. A questo punto cosa non ti piace dell'Italia? Beh non mi piacciono, più che altro forse è brutto che dico questo perché non li conosco, cioè non avendo nessun rapporto con il mondo diciamo fra virgolette della politica o di coloro che gestiscono certi importanti, insomma che gestiscono a livello di regioni, province, insomma il nostro paese e non mi piace molto la nostra classe dirigente, però ti ripeto io non mi occupo di politica e quindi forse è un giudizio sbagliato. Entriamo nel pieno del vino, per te il vino è bianco, rosso o rosè? Io personalmente sono un rossomane, mi piace veramente molto il vino rosso tanto che mi piace anche per esempio il pesce, io lo abbino quasi sempre anche con il pesce e devo dire che mi piacciono molto anche dei bianchi, dei grandi bianchi o dei bianchi semplici, leggeri, nel caso dei vini italiani io li chiamo dei bianchi italici, cioè l'Italia forse non è, ci sono dei grandissimi vini bianchi, penso al nord Italia, al Friuli Venezia Giulia, al Veneto, però la forza dei vini bianchi italiani è questi vini molto beverini e sapidi, ogni tanto anche salati, non eccessivamente profumati e dove invece primeggiano sempre, per me sempre la Francia e poi anche altri vini di altri paesi. Quindi mi piacciono anche i bianchi e poi se parliamo di bollicine devo dire che sono un grande amante degli champagne francesi e qualche champagne francesi che potrei bere anche la mattina quando mi sveglio prima o dopo il caffè, io sono anche un caffeinomane se devo pensare ai miei vizi, però adoro anche le grandi bollicine italiane, dalla Francia corta al Trentino Alto Adige e anche in altre regioni d'Italia. Hai anticipato una nostra domanda che era quella degli abbinamenti, di solito abbiamo ormai sdoganato la possibilità di fare degli abbinamenti di rosso con pesce e di bianco con carne, ricordi un abbinamento azzardato che ti è rimasto impresso? Beh mi ricordo una volta avevo una mia amica che era una regista tedesca che era venuta in Italia a fare un film per conto di una produzione tedesca e io le dei di una mano soprattutto a Roma in Toscana per fare questo film e poi l'andavo spesso a trovare dopo, sono stato spesso a trovarla in Germania e mi ricordo che lei preparava dei datteri arrotolati nello spec e con quelli mi ricordo che sorseggiavamo degli spumanti degli champagne rosé, ecco quello è un abbinamento che mi viene in mente, ora perché tu me lo chiedi ma ce ne sono tanti, per esempio con le carni, a me sono un carnivore, ecco anche quello dire che uno è carnivore oggi in questo mondo dove potrebbe sembrare brutto, però con la carne bere un vino rosso è buono, dico buono più che importante, forse è una delle sensazioni più belle che si possono provare. Nel panorama culinario italiano e anche non, hai un piatto preferito e se sì quale e a quale vino l'abbineresti? Beh a me piacciono tanto gli spinaci come verdure che sono quasi come braccio di ferro, cioè il mangiare in tutte sempre e mi ricordo un piatto di spinaci con uvetta e pinoli, ora non so come era cucinato perché io non so cucinare, con i pinoli della fattoria di Migliarino che è una grande fattoria nel Pisano che io frequentavo molto perché ero innamorato della proprietaria di questa fattoria che era una bellissima, è una bellissima signora che si chiama Oliva Salviati, non so se si può fare il nome, e con i pinoli di questa fattoria che ora insomma fa parte anche insieme a San Rossore di un parco regionale importante della Toscana con i pinoli di Migliarino si cucinavano questi spinaci e io ricordo che erano dei momenti bellissimi. Quanti bicchieri o bottiglie di vino sono necessarie per farti ubriacare? Ma ora non riesco più ad ubriacarmi, non so perché, forse perché inconsapevolmente bevo quello che mi serve per stare rilassato e bene, ma non mi ubriaco più da tanto tempo, bevo per esempio la sera quando comincia a calare il sole al tramonto, anche se sono in città, quindi non so quando c'è il tramonto perché non si vede in città, però comincio a sentire il bisogno di un bicchierino di vino e allora dall'aperitivo alla cena e forse anche un bicchiere o due nel dopo cena, però credo che è sempre quella quantità che mi permette di non essere ubriaco, di stare bene ed eventualmente anche continuare nella notte a stare anche meglio o dormendo o rimanendo sveglio. Secondo te esiste un rimedio per superare una sbornia? Sì, esiste ed è quello di sopravvivere al meglio durante la fase negativa della sbornia e poi riprendersi in qualche maniera, insomma ci vorranno qualche oritta così, ma una sbornia si supera sempre. Il tuo primo appuntamento al ristorante dove è stato e se ti ricordi che viene ordinato? Ebbè questa è una domanda difficile perché ai ristoranti ci andiamo tutti da tanti anni, forse è stato quando ero piccolo a Roma e andavo, insomma c'erano dei riti di famiglia e mi ricordo che nostra mamma ci portava la domenica a tutti noi figli, siamo di meno sei figli e ci portava al ristorante la domenica e poi nel pomeriggio andavamo al cinema tutte le domeniche con mia mamma e anche con la nostra governante austriaca di cui parlavo prima e mi ricordo che c'era un ristorante romano che si chiamava La Campana, a Via della Campana che ancora esiste, infatti ci torno con piacere, ecco quello era la mia, però devo dire che non ricordo bene quello che mangiavamo. Per una serata di gran seduzione che vino ordineresti? Diciamo che se invito a cielo una ragazza o una signora, ormai direi più signora che ragazza non essendo un adolescente, neanche un trentenne e non sapendo i suoi gusti, subito ordinerei delle tra virgolette bollicine e poi un vino non bianco ma un rosso leggero, brioso e di nuovo quindi penserei a qualche vino oltre al pinot nero che ho già menzionato prima ma non so ora mi viene in mente il La Grain del Trentino che è un vino leggero profumato che a me piace molto e poi qualche vino non troppo aromatico, bianco se dovessimo mangiare del pesce dove io continuerei con il rosso ma sicuramente no, quindi cercherei di capire dalla persona il gusto per farla stare bene, per stare bene tutte e due insieme. Nell'era dei social ti domandiamo se sei social e se come utilizzatore quale piattaforma utilizzi di più? Guarda non sono un grande conoscitore dei social, ora da poco uso, da quest'estate uso Instagram perché me lo ha insegnato fra le altre cose un caro amico conosciuto ma non lo dico per fare in inglese si direbbe il name dropper cioè far vedere che l'apo è il canna e lui mi ha detto ma tu dovresti usare Instagram perché essendo un conoscitore di vini avresti sicuramente un seguito e ora uso Instagram, devo dire in una maniera sbagliata perché lo uso non solo per il vino ma tutte le cose che mi piacciono le fotografo e le metto su Instagram, poi so fare per anni usavo solo, ero bravo nel fare ricevere e scrivere e-mails ma quella è internet e poi Facebook è l'unica cosa che uso però sempre di meno questo per dirti che non sono un grande esperto. Il film è più bello dedicato al vino? Beh a me è piaciuto molto quello americano in California, Sideways, quello l'ho trovato una commedia che veramente mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuto meno quello famoso dell'Amico è una storia che poi lui è un mio amico di Stephen Spurrier che si chiamava Anne Court mi sembra che è la storia di questo inglese che ha fondato, no di questo francese che fondò l'Acadème du Vin a Parigi e fece il famoso, quella famosa degustazione del 76 e da cui dove emersero per la prima volta dei grandi vini californiani rispetto ai grandi di Bordeaux e forse credo che c'era anche un, non so se c'era il Sassicaia o un grande vini italiano. Alla domanda da piccolo cosa vorrai fare da grande, ricordi cosa rispondevi? Sì, me lo ricordo benissimo, volevo fare il regista cinematografico ed è quasi, quasi è un desiderio che non è cambiato, forse se fossi più giovane rifarei il regista perché a me piace molto raccontare le storie, trovo che la vita nella realtà non è altro che una continua storia di noi stessi, di altri, la storia dell'umanità stessa nella realtà non è altro che una grande storia e quindi sono affascinato dai bei film tuttora, quindi il regista. Devo dire che ora mi piace molto stare, non dico per conto mio, ma seleziono molto i momenti di rilassamento o con amici o se no leggo molto, giro con delle valigie piene di libri e poi me li porto in giro e me li leggo in contemporanea, infatti non finisco mai, non credo di aver mai finito un libro, ma da tantissimi anni, anche perché ridendo e scherzando sono diventato uno, non uso la parola scrittura perché sarebbe presuntoso per me, ma sono diventato uno scribacchino e quindi ho pubblicato dei libri e non c'è meglio che per scrivere bene, che leggere bene da sorgenti importanti, quindi da veri grandi scrittori. Qualcuno legge i fondi del caffè? Se si potesse leggere il fondo di un calice di vino, cosa vorresti che ti rilevasse? Tu dici un mio desiderio nascosto attraverso… Sì, magari anche quello. Ma mi piacerebbe che tutto quello che il vino mi ha dato, tutto quello che il vino mi ha insegnato, che è tanto, mi ha dato la possibilità di conoscere i produttori, ma non solo i produttori del vino, tutti gli uomini che gravitano intorno a questo universo, che tutta questa conoscenza mia personale potessi trasferirla in altre maniere alle persone a cui sono molto legato. Siccome sono, come tu hai detto, anche nonno, quindi sono un piccolo patriarca di una numerosa famiglia, tra figli e nipoti, vorrei poter trasferire le cose buone che ho imparato. Ti sei mai fatto leggere i tarocchi o le carte? No, sì, mi ricordo che qualche volta, tanti anni fa, mi ricordo un episodio, stavo ad Atlantic City, vicino a New York, ed ero ospite peraltro della famiglia Trump, è una città dove ci sono tutti i casinò, e litigavo, stavo sul mare all'Atlantic City e litigavo con mio fratello Roffredo, non mi ricordo per quale motivo, e poi una signora che leggeva i tarocchi, tipo zingara così, ci ha chiesto se volevamo farci leggere i tarocchi, e io me li feci leggere e questa signora mi disse, io vedo, sento che tu hai molto recentemente litigato con qualcuno, e allora ho pensato che era un'imbrogliona, perché mi ha visto che stavo litigando, e allora da quel momento non mi sono disinteressato. Che sport segui? Ah, beh, devo dirti che non seguo per niente il calcio, non sono un appassionato perché non ho avuto mai la possibilità di giocarlo, perché negli anni in cui ero piccolo ho avuto un problema a una gamba e sono stato molto fermo e non potevo fare sport. Oggi seguo, diciamo come appassionato, seguo molto l'atletica leggera, il pugilato, e soprattutto i grandi eventi sportivi, non mi metto davanti alla televisione necessariamente. Poi prima praticavo diversi sport come nuoto, alpinismo, insomma il free climbing, cioè ero molto appassionato, uno sport che ora sta facendo molto mia figlia, in maniera quasi agonistica, e oggi mi sono impigrito molto, allora faccio solamente, ho ripreso a fare paragadutismo sportivo, perché è uno sport dove non necessita molto una struttura muscolare, possente, ma quello che necessita è dei nervi saldi, allora mi piace sentire le emozioni nervose più che muscolari, quindi mi rilassa. E ovviamente anche una gran dose di coraggio. Qual è il miglior consiglio che hai ricevuto? Non so se è facile o difficile, forse quello di corteggiare una signora che poi è stata mia moglie e che oggi è mia ex moglie, pur essendo oggi mia ex moglie, sono veramente felice di essermi sposato, è stato sposato con lei e mi ricordo che c'erano tante persone che mi consigliavano di sedurla o di farle la corte, cosa che io ho fatto, è stata una bella storia d'amore. Qual è il miglior consiglio che ti senti di darci? Beh, avendo te che mi fai queste domande così belle, rimarrei dentro l'argomento che è il vino, che è anche la mia professione e consiglierei a tutti di bere vino ogni giorno con moderazione, ma di bere vero vino e nel vero vino c'è l'alcol, quindi di non essere astemi e di non essere, insomma di bere i famosi vini senza alcol, perché se si beve con moderazione è importante bere vino. C'è parso di aver compreso che torneresti a fare il produttore di vino e a questo punto dove ti piacerebbe farlo? Ecco, devo dire che l'esperienza di produttore di vino è un'esperienza bellissima, soprattutto senza voler essere retorici o sdolcinati, perché si è veramente a contatto con la terra e soprattutto con un certo mondo rurale, anche se quel mondo rurale è cambiato moltissimo. Mi piacerebbe farlo in quei posti dove ancora si potrebbe parlare di sfida. Penso per esempio a un paese del Medio Oriente che a me piace molto, che è il Libano, il Libano è anche una polveriera storica dove succedono tante cose difficili, complesse, perché sta in mezzo alla regione più calda del Medio Oriente. Quindi attraverso il vino conoscere questo mondo contadino che esiste in Libano, dove sono stato, dove vado anche abbastanza spesso in questo periodo, ecco lì mi piacerebbe produrlo. Mi piacerebbe produrre un vino in Perù perché io sono affascinato dalle storie che ci sono non tanto dietro al vino ma che il vino può generare. Il Perù è un paese dove si coltivavano i frutti migliori, lo facevano gli Inca milioni di anni fa, sopra i 2.000-3.000 metri di altitudine e io credo che un vino prodotto in Perù, che è l'unico paese del Sud America, forse uno dei pochi paesi dove non si produce vino, potrebbe essere un'altra bella sfida, forse anche in Italia di nuovo. Il tuo attore o attrice preferita chi è? Beh, in questo momento mi piace molto un'attrice italiana che si chiama Lucrezia Lante della Rovere. Il tuo cantante o gruppo preferito? Chi sono o chi è? Mi piace molto Eric Clapton, io ero un appassionato, strimpellavo la chitarra e consideravo Eric Clapton è un mito e ho avuto modo di conoscerlo nei miei anni londinesi, ho vissuto tanti anni a Londra, continuo a frequentarla e Eric Clapton ancora ora mi emoziona quando lo sento cantare suonando la sua chitarra. Veramente un grande. Ti è piaciuta la nostra intervista? Sì, molto. Dacci un voto da 1 a 10. 10? Sei stato sincero? Sì. Bene, adesso però non ti puoi esimere al nostro famigerato giochetto, io ti dirò il nome di un personaggio famoso e tu mi dici a che vino lo abbineresti, sei pronto? Sì. Personaggio politico del momento, tra l'altro che tu hai anche conosciuto di persona, Donald Trump. un lambrusco non di annata ma che ancora tiene con la spuma. Lucrezia Lant della Rovere. Un pinot nero molto delicato. La regina Elisabetta. Un grande bianco di Borgogna. Altro personaggio famoso, sicuramente presto anche un po' politico, Papa Francesco. Un vinsanto. Non possiamo pescare personaggi nel panorama politico italiano, anche perché ci avviamo verso le elezioni e non saprei proprio chi nominare. Ti faccio una domanda chiedendoti di Checco Zalone. Un rosato del Salento, mentre invece tu hai detto che non mi volevi fare la domanda sui politici italiani, non dovendoli nominare potrei fare generalizzare e dire che loro mi ricordano l'aceto. Un perfetto abbinamento. Chiudiamo con Sharon Stone. Un millesimato champagne rosé. Se dovessi pensare a una casa vinicola, penserei a un Krug. Gelasio, ci ha fatto molto piacere ascoltarti. Salutiamo i nostri ascoltatori. Ti ringrazio molto e spero che ci rincontriamo presto. Grazie a te. Grazie per aver ascoltato un nuovo episodio di Wine Soundtrack. Per info e aggiornamenti vai sul sito wine soundtrack.com Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.